Penso che sia una giornata importante per l'opera e per la famiglia dell'ospedale di Negrar perché questo reparto proprio mette al centro la persona, la persona sofferente e la persona non autosufficiente. Quindi nell'ottica del carisma calabriano penso che questo reparto sia proprio nella linea del carisma perché dà una particolare attenzione, un particolare sguardo alla persona che è in difficoltà. Il malato una volta uscito dall'ospedale, quando ancora non autosufficiente per andare a casa trova qui accoglienza, la possibilità di trovare le cure, l'attenzione necessaria e la riabilitazione per prepararsi poi al rientro a casa. Quindi mi sembra proprio calabriana come esperienza quella che sta per partire.